Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti, io sono Roberto Borrelli e oggi continuiamo a vedere il mio programma, che è un campione davvero, il mio programma Bersaglio Lotto. Voi vi chiederete perché versione 2019 quando siamo nel 2021? Semplicemente perché le cose che funzionano le cambio con attenzione, facendo attenzione, perché ancora funziona davvero benissimo l'algoritmo in questo programma e quindi conviene, conviene assolutamente avere questo programma e seguirlo. Quando comincerà a funzionare meno, allora sicuramente ragionerò su una nuova versione, ma per adesso questo Bersaglio Lotto 2019 è una bomba, è un campione. Vi faccio vedere alcune cose, ho preso in particolare un pronostico, i pronostici anzi basati sull'ultima estrazione dell'anno 31-12-2020, quindi adesso siamo al 9 gennaio, estrazione 4185. E attenzione, prima vi voglio dire una cosa, il programma si aggiorna automaticamente da internet, basta cliccare su aggiorna da server 1 oppure aggiorna da internet, ma è uguale se avete quella versione, è identico, i calcoli sono uguali. Il programma si aggiorna velocemente anche se state tanto tempo senza aggiornare, quindi a un certo punto lo caricate, aggiornate e si aggiorna in ogni caso nel giro di pochi secondi. Fatto questo si accede alla videata di ricerca e viene fuori questa che è appunto la videata di ricerca. Appena l'aprite sicuramente vi si posizionerà all'ultima estrazione, quindi alla 4185, ma io l'ho già portata indietro alla 4181 per farvi vedere una cosa. Voi giochi, quindi chi ha il programma, metterà in gioco i pronostici calcolati alla 4185. Seguitemi perché vi dico poi qual è la ruota migliore da seguire. Ok, attenzione ci sono anche dei pronostici per chi non ha il programma, quindi seguite fino alla fine. Per favore mettete subito mi piace, come sempre vi dico piano piano, chi non mette mi piace non vince. Quindi cliccate subito, la manina in alto, iscrivetevi al canale, spuntate la campanellina per ricevere tutti gli avvisi quando metto questi video perché i programmi funzionano molto 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 bene, ma è molto utile seguire questi video per capire anche come mettere in gioco i pronostici. Come funziona Lotto++? Scusate, Lotto++. Come funziona Bersaglio Lotto? Questo è Bersaglio Lotto, no, perché Lotto++ è l'altro mio programma. Ho fatto nei giorni scorsi tre ore di video per spiegare tutte le funzioni, quindi mi è rimasto ancora. Come funziona Bersaglio Lotto? Che non c'entra niente con Lotto++, non è all'interno di quel programma, è un programma a parte, che si utilizza a parte. Eccolo qua, Bersaglio Lotto, vedete? Bersaglio Lotto, allora, per ogni ruota, vedete, io mi sono posizionato alla estrazione 4181, che è quella del 312, 312. E poi vediamo anche cos'è successo con altri pronostici in altre estrazioni, però, guardiamo cos'è successo al 312. Intanto il programma vi dà un pronostico formato da un ambo secco, per esempio in questo caso era Bari, 3983. E poi i tre numeri aggiuntivi, 27, 61, 49. Queste sopra sono ambate e ambo, ambate e ambo secco. Ambate è molto importante, ok? Sulla ruota scelta, solo sulla ruota principale scelta. Gli ambate sono molto importanti. E chi ha Lotto++ può andare a controllare, come ambata, quali sono le migliori posizioni di gioco. Vi ricordate, nell'8++, menu 4, ecco, lì potete controllare, dopo ve lo faccio vedere, quali sono le migliori posizioni di gioco da seguire. Perché il gioco in posizione su un singolo numero, secondo me, è un gioco ottimo, eccezionale. Quindi, questi sono i numeri principali. Quelli sotto sono i numeri aggiuntivi, che vengono accoppiati ai primi due. Quindi, in questo caso, per esempio, gli ambi secchi erano 39, 27, 39, 61, 39, 49. E poi, 83, 27, 83, 61, 83, 49. Perché, una cosa che non vi ho detto mai scontata, praticamente, questo programma è eccezionale per l'ambo secco. E l'ambo secco paga tanto. Quindi, seguite questa spiegazione. Ottenete questo programma cliccando sotto sul link come ottenere il programma, sotto nella descrizione. Oppure, scrivetemi tramite WhatsApp, perché oggi l'ho messo veramente a meno, a molto meno. Quindi, potete averlo. Ci sono poche licenze, però, a questo prezzo. Quindi, fate presto. Scrivetemi su WhatsApp. Non chiamatemi con WhatsApp, perché non riesco a rispondere, però, scrivetemi su WhatsApp. Bene, abbiamo detto che c'è una ruota principale, che è quella mia scelta, e poi c'è una ruota secondaria. Attenzione, dicevamo che sulla ruota principale si giocano le ambate e gli ambi che si combinano. E poi, tutti, almeno un euro bisogna metterlo su tutti i cinque numeri per ambo. Il terno può capitare, ma potete risparmiare, perché questo è un programma dedicato all'ambo e all'ambate. Quindi, tutti i cinque numeri per ambo, sulle due ruote. Gli ambi secchi che si combinano. Ok. E poi, ognuno può. Insomma, alla fine sono cinque numeri. Potete mettere in gioco come volete. Però, ricordatevi, la ruota principale è la prima. La seconda ruota è una ruota dove il programma trova comunque delle condizioni. E quindi, però, diciamo che la seconda ruota, seguiamola non per ambata, seguiamo solamente tutti i cinque numeri. Facciamo proprio la minima giocata. Tutti i cinque numeri per ambo, va bene? Se volete mettere qualcosa per il terno può capitare, ma seguiamo tutti i cinque numeri per ambo, perché comunque è un recupero la seconda ruota. Bene, oltretutto qui sotto c'è un indicatore di validità. Questo non è che indica la percentuale di... Le probabilità sono sempre le stesse, non è che cambiano. Quindi, questo indicatore ci dice solamente quanto le condizioni, in quale percentuale le condizioni di gioco, di validità, sono state trovate dall'algoritmo. Un algoritmo che ho scritto io e ce l'ho solo io in mente, quindi non è scritto da nessuna parte, è inutile cercarlo. Bene, la vedete che è fenomenale. Allora, praticamente, come si utilizza? Se cambiamo ruota, si clicca questo bottone, cambia ruota, finché non si ottiene... Vedete, qui sotto c'è un indicatore che può essere verde, oppure può essere rosso, con indicazione al 79% o anche più. In questo caso, il pronostico è valido, è più valido, perché sono buoni anche quelli in verde. Purtroppo escono anche quelli, purtroppo, capito? Però, se dobbiamo scegliere, insomma, facciamo una scelta, mettiamo in gioco quelli in rosso. In questo caso, vediamo che a Firenze, pronostici basati sulla estrazione 4181 del 31-12, vedete, qui siamo al 9 gennaio 4185, se andiamo indietro al 31-12, questo era il pronostico. Il programma, attenzione, dopo ogni estrazione calcola un nuovo pronostico, perché l'algoritmo lavora in questo modo. Potrebbe cambiare poco o tutto, ma ecco, voi potete seguire o l'ultimo pronostico, quindi, per esempio, chi prende oggi il programma, clicca ultima, nuovo pronostico e mette in gioco quello, e va benissimo. Oppure potete seguire i pronostici calcolati all'ultima estrazione del mese precedente o alla prima estrazione del mese in corso e seguirla per tutto il mese. Diciamo che normalmente si gioca per classiche 5-6 volte. Quando esce un'ambata sulla ruota principale, si abbandona. Quando esce un ambo, sia che fosse sulla ruota principale o sulla ruota secondaria, si abbandona. Quindi si passa a un altro pronostico. Ho detto tutto. Qui a destra, vedete che ci sono indicati i risultati alla prima giocata utile, dopo quella del pronostico. Quindi se qui siamo alla 4181, qui a destra automaticamente vedete i risultati al 2 gennaio, estrazione 4182. E adesso vediamo che posso andare avanti, posso controllare gli esiti ai colpi successivi. Al primo colpo non è uscito niente, 75 a Cagliari non ci dice niente, non è un numero che ci dice qualcosa. Andiamo avanti, controlla esiti, clicco qui e ho già al secondo colpo un ambo sulla ruota principale 4718. Attenzione, non è un ambo di quelli che si incrocia con i primi due numeri, però comunque è un ambo nei 5 numeri. Quindi è buono, è sfaldato. Giocando tutti i 5 numeri per ambo, questo l'avremmo preso. Al secondo colpo 4718. Quindi la ruota di Firenze aveva dato il risultato. Andiamo a vedere cosa hanno fatto le altre ruote. Quindi clicco, cambia, per vedere Genova in verde non mi interessa. Milano, Milano ho sempre estrazione 4181 e qui a destra sempre il controllo al primo colpo, in modo automatico si riposiziona al primo colpo. Numeri principali 3,30 e gli abbinamenti erano questi, 15, 40, 75. Validità buona, 74% in rosso. Guardiamo cosa è successo. Al primo colpo niente e uno dice ah mannaggia non ho vinto. Non si può vincere sempre il primo colpo. Bisogna avere la costanza di seguire i pronostici. Controlla esiti, vado avanti. Al secondo colpo non ho niente perché c'è un 40 che è uno dei tre numeri. Terzo colpo niente. Uno dice ah mannaggia abbandono, prendo un altro. È sbagliatissimo. Bisogna seguirli. 10 classiche 5, 6 volte seguiteli. Io ho scritto 7 quando è in rosso. 7 colpi sarebbe buonissimo. Andiamo avanti quindi vediamo cosa è successo al quarto colpo. Ecco che al quarto colpo abbiamo l'ambo secco 3,30 e questo non è che lo vedo io adesso e non lo vedete voi. Tutti quelli che hanno il programma e fanno questa stessa cosa quindi pronostico alla 4,181 e poi vanno avanti alla 4,185 vedono che c'è stato l'ambo 3,30 al quarto colpo. Sono bravo io o è bravo il programma? Vabbè sono bravo io che ho fatto il programma. A parte gli scherzi. Insomma il programma è veramente veramente efficace. Quindi ve lo consiglio assolutamente. Oggi che poi veramente lo potete avere così a pochissimo prendetelo perché ho solo poche licenze a questo scontate. Bene 3,30 a ambo secco è uscito quindi finora Firenze e Milano che erano le due ruote in rosso ci hanno dato il risultato. Andiamo a vedere quindi facciamo cambia andiamo su Napoli. Napoli 64,46,20,75,31 vediamo un pochino Napoli cosa ha fatto. Primo colpo niente, secondo niente, terzo niente, quarto niente e basta siamo arrivati al quarto. Attenzione perché Napoli non ha dato niente. Quindi questo è un pronostico che io suggerisco a tutti. Anche chi non ha il programma, chi ha semplicemente il telefono e oltre che a chiamare la zia per fare gli auguri vuole usare il telefono in modo costruttivo segua questi miei video. 64,46 Napoli, Ambate e Ambo secco e poi tutti i numeri da incrociare insomma. Gli altri tre numeri sono 20,75 e 31 ok fino al quarto colpo non ha dato niente ancora validi per altri tre colpi o chiaramente la sicurezza non c'è perché se vedessi la sicurezza sarei come vi ho detto in un altro video Mago Merlino insomma però non c'è. Andiamo a vedere cos'è successo, finora 2 su 3 hanno dato risultato, andiamo a vedere Palermo, Palermo è 0, qui quando c'è scritto 0,0,0,0 vuol dire che proprio non ci sono minimamente le condizioni quindi non c'è neanche il pronostico. Andiamo a vedere Roma, a Roma abbiamo una buona validità 74%, notate che finora quelle con il 74% sono uscite, quella con l'80, prima cos'era 84, no vabbè 89 non mi ricordo, no quella non è uscita. Va bene, vediamo Roma e Genova, ma Roma è la ruota importante, al primo colpo il 20 ma non ci dice niente perché è un 20 a Genova. Andiamo a vedere cosa è successo, andando avanti, secondo colpo niente, terzo colpo abbiamo Lambo secco 13,87 quindi l'87 che sta sopra si incrocia con il 13. 13,87 a Roma, al terzo colpo, buonissimo, veramente buono, e uno interrompe perché è uscito Lambo, interrompe, attenzione si interrompe anche quando esce Lambo fra i 5 numeri con la ruota secondaria, è la stessa cosa, Roma ci ha dato Lambo, finora 3 su 4 ci hanno dato Lambo. Vediamo se ci sono altre ruote in verde, no non ci sono perché Torino era, scusate in rosso, Torino era in verde e questa Venezia e non ci sono per niente i pronostici. Quindi abbiamo detto che Firenze sì, positiva, Milano positiva, Napoli no, quindi sono i numeri da giocare, ve l'ho dati prima, tornate indietro nel video se volete rivederli, Roma sì, è stata molto positiva, ambos ecco, che vi dico se andate a fare il calcolo con queste ruote avreste vinto, ovviamente non si può giocare tutto, no perché se capita una volta che non va bene, che tre vanno male, perdete troppo, scegliete una ruota, quella che vi piace, io normalmente aspetto che Bari sia segnalata in rosso e gioco quella, non vado di qua di là perché mi piace la ruota di Bari, mi diceva anche Roma, ma preferisco seguire Bari, e questo programma vi dico anche che è nato proprio come algoritmo sulla ruota di Bari, quindi in teoria dovrebbe essere più efficace sulla ruota di Bari, ma ho visto che è efficace su tutte le ruote. Bene, ma cosa succede se avessi preso per esempio i pronostici invece che quelli della 4181 o quelli della 4182? Guardiamo un po', cerco un pronostico che sia segnalato in rosso, attenzione 4182 significa che è la prima estrazione di gennaio, quindi la prima dell'anno, uno può giocare anche quella. Guardiamo un attimo, Milano, Milano segnalato in rosso e ho 1440, ok, tra cinque numeri, al primo colpo. Ok, e tutte le altre sono in verdi, ecco perché sono verdi, ecco perché per fare questa prova ho preso quella del 312, perché c'erano quattro ruote segnalate in rosso, invece osservando dalla prima dell'anno, cioè 4182 del 2 gennaio, era segnalata in rosso solamente Milano che ha comunque dato subito risultati e l'ho lasciata andare. Bene, come si fa? Come si fa? Allora, come si fa ad avere un nuovo pronostico? Per avere un nuovo pronostico, chi non ha il programma può seguire quel pronostico che ho dato a Roma, chi ha il programma, attenzione, va sulla ruota di Bari, clicca ultima, nuovo pronostico, dove c'è un pronostico molto interessante da seguire per sette colpi, molto interessante perché mi piacciono quei numeri. E andate anche ad aprire il programma Lotto++, eccolo qui, menu 4, determinato per numero, e andate a cercare su determinato per numero i due numeri che vi dà il programma Bersaglio Lotto sulla ruota di Bari all'ultima estrazione. I due numeri che vi dà li potete giocare nelle posizioni che vi saranno indicate in questa analisi per numero come strato determinato che sta sul menu 4 di Lotto++. Chi ha già Lotto++ è fortunato ed è bene che prenda anche Bersaglio Lotto oggi perché costa meno. Chi non ha Lotto++ può avere anche Lotto++, se volete entrambi i programmi mi iscrivete, quindi Lotto++ è Bersaglio Lotto, mi iscrivete comunque su Whatsapp e potete averli ulteriormente scontati. Grazie a tutti, speriamo in tante vincite, grazie ancora, per favore metti il mi piace, ma tanto quello l'hai messo al sicuro, se non hai messo il mi piace è inutile che giochi, lascia perdere perché non vinci. Ciao ciao, ci sentiamo alle prossime. Ciao 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 Grazie a tutti.